Luigi Muro e Vincenzo Carpezzuto faranno una lista unica? Allora, che cos'è la politica? La politica è tutto ciò che antecede un atto amministrativo, per me. Noi abbiamo bisogno di darci un luogo dove poter far sì che quell'atto amministrativo abbia non solo una condivisione delle parti politiche, ma anche del territorio. Oggi io mi sono creato un contenitore politico che si chiama la Casa del Fare perché sento l'esigenza di far diventare oggi l'atto amministrativo una conseguenza di una valutazione politica territoriale dove anche le categorie partecipano. Noi dobbiamo avere la capacità di condividere e convivere all'interno di un contenitore politico che abbia la capacità poi di fare i successivi atti. Oggi io mi sono dato la mia Casa del Fare perché vorrei, come posso dire, per la prima volta tentare di cercare di vivere una stagione politica con persone che naturalmente credono prima di tutto in quello che dico e poi in quello che faccio. Luigi non ha bisogno oggi di darsi uno strumento politico perché ha un rapporto talmente consolidato con il territorio che lui già sa o già ha un termometro chiaro della situazione. Il confronto tra queste parti può dare vita ad un nuovo soggetto politico, addirittura può dare vita ad una diversa stagione che ci può vedere anche contrapposti. Io naturalmente ho la responsabilità politica perché ormai i capelli bianchi ce li ho di non poter assolutamente per questioni politiche che non hanno una valenza amministrativa lasciare il Paese allo sbando oppure darlo nelle mani di persone che comunque non avrebbero la capacità di portare avanti i grandi temi perché poi l'incoscienza degli altri è nel non avere coscienza dei problemi che attualmente sta vivendo anche il territorio procidale. Quindi c'è bisogno di una doppia responsabilità, qualsiasi valutazione deve avere comunque come punto di riferimento procida e nonostante il coraggio che bisogna dimostrare in una emancipazione politica che vuol dire confronto il confronto deve portare una sintesi ma se la sintesi non c'è naturalmente ci può essere anche un nuovo soggetto politico e questo non vuol dire come posso dire aver rinnegato quella che è stata tutta una storia, una stagione che ci ha riguardato vuol dire avere oggi delle idee diverse che non riescono a trovare naturalmente una sintesi.